L'allevamento amatoriale cinofilo BugdaDog si pone al tuo fianco per una scelta consapevole del tuo nuovo amico a quattro zampe con competenza e passione. Dispone di una pensione con box confortevoli e ampi spazi all'aperto. Ti aspettiamo a Valeggio, provincia di Pavia. In via Roma 22, telefono 348 5752 778. Consulta il sito ufficiale www.bugdadog.net Siamo anche su Facebook. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS www.bugdadog.net Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti